Ricette estive Le lasagne vegetariane Oggi vi illustrerò un piatto tipico della tradizione italiana, la lasagna, ma lo farò non nel consueto modo, visto che vi parlerò di lasagne vegetariane. Le lasagne vegetariane, infatti, possono essere perfette per un pranzo estivo e soprattutto più leggere e digeribili. Vediamo gli ingredienti di cui abbiamo bisogno. 250 g di lasagne fresche 600 g di melanzane 250 g di pomodori 150 g di spinaci 50 g di parmigiano grattugiato 300 g di robbiola 80 ml di latte Olio extravergine di oliva Sale, pepe, erba cipollina e sale grosso. Preparazione delle lasagne vegetariane Prendetele le melanzane, lavatele accuratamente e asciugatele, quindi tagliatele a fette sottili, mettetele in una ciotola e cospargetele con sale grosso. Lasciatele lì per un'ora, così che perdano tutta la loro acqua amara. Passato il tempo, sciacquatele e cuocetele sulla griglia, aggiungendo sale e pepe. A parte prendete la robbiola e lavoratela con il latte e l'erba cipollina. Potete usare anche altre erbe aromatiche a seconda del vostro gusto. Lavate i pomodori e gli spinaci, tagliateli e accendete il forno a 190 gradi. Ungete una teglia da forno, mettete uno strato di lasagne e coprite con la crema di robbiola, quindi le melanzane, poi gli spinaci e i pomodori. Continuate a fare gli strati in questo ordine, fino a quando non avete finito gli ingredienti. Sopra l'ultimo strato mettete il parmigiano grattugiato e infornate per 15-20 minuti. Fate raffreddare per una decina di minuti e servite. Grazie. 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 Grazie.